Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Aglio e Calenzano VI Fiorentino e rallentamenti tra Firenze in Pruneta e in Cisaregello in direzione Roma. In direzione Bologna invece rallentamenti tra Calenzano VI Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico. Spostiamoci in Fipili dove a causa di lavori si segnalano 4 km di coda tra Scandiccio e Ginestra Fiorentina con code in uscita alla Strassigna in direzione Livorno, 3 km di coda invece tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze possibili rallentamenti a causa di uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Tavarnelle e Val di Pesa che è attualmente chiuso in entrata e in uscita in direzione Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio! Grazie a tutti!